bello a bella raga fortnite è una modalità lega cioè fai 25 punti a rimanere in un'altra lega credo da quell'altra lega fa 50 punti almeno credo sia così 80 mila ti piace facciamo un'altra linea ma anche 700 anche 70 mila che bastano 10 10 10 10 mi piace faccio un attore troppo 10 del pacchetto guarda per una bella cosa è però quando sto con gli altri bello bello sto tattico bello servirà tantissimo io risconderei l'incinario non posso inizio io o scrivi schippi dai qui bello 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 che forse qui c'è qualcuno tra istituto a sushi credo presento e però se non trovo una mini una r o uno scarlo magari scarlo ho solo pompa santo mamma ho fatto una modalità su un e cadastro mamma 35 da un cosetto visto qualcosa infatti si stanno vedendo posso usciare tutto ciò no no io non stanno si stanno davanti a te stanno devi io so che la macchina la colla dove ci sta sparando no se ti vedono non so ma non è che via 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 dai 2 milioni e 2 kg è stato è stato in cui si è stato vieni non so non si 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 il caprani mi servono tanto uno slot vuoto posso utilizzarlo un problema andrei più in sé il figlio non c'è non c'è nessuno potrei anche atterrare qui c'è nessuno non c'è nessuno c'è nessuno c'è nessuno io ho paura che sta qua io ho paura che sta qua io questo sta qua ho sentito dei passi non ho sentito munizioni che mi sento i cannoni si sparano cioè quindi non è fuggito è sceso già tutto non è siccome non è si andata su un mullo e andata a casa andata a casa ma non puoi scappare non puoi scappare ma raggiungi la top 25 3 punti bene ho sei punti con te bello non ho deciso da giugno non me ne ho deciso da qua pezzente che non è un altro ma ti ammazzo ma madonna se ti incontro cosa ti fa è scappato è cadato addosso vi rendete conto siamo ancora in sisamotto siamo in sisamotto e ancora scappano questi quelli non mi fa ciao fatti il coraggio no hanno rimesso ai 500 di materiali no mi pare ieri o l'altro ieri erano 999 dai io ho la morte che io alzù non so devo sentire tutto niente io una r bianca o le troppo qualcuno ha detto che ho trovato che ho trovato ok ok e vedete dopo 15 ok ora è venuto a caprici scudini 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 ok dico il dico e non me ne faccio niente della dico perché non la so fare cioè la sociale non è che non la sociale per l'amore di dio però si usare meglio questo perché il legno e dovrebbe dare il mattone il legno è legno no però però non è per dire per vantarmi perché alla fine mi culano non è per dire intima contro c'è tutti no però maggior parte questo è una cosa che si costruiva andiamo in attacco è ora di giro questi sono già uccisi perché non vedo più costruire più sparare se lo becco questo oh 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 No Qualcuno l'ha ciocchinato Brutto Guarda Qualcuno l'ha ciocchinato 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 Che stesso è Ciocchinato Mi sto appiccionando Però la macchina era mia Cioè no Era fortissimo Sto provando malissimo Scappato Codo Ti vengo a pushare manco Maledetto No no Tutti contro di me Ma ti venisse qualcosa Proprio Tutti contro di me Maneggiami Tutti contro di me Buona 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 Dove sta Buona E' buona E' buona Cotto Dai Oh Bello Me lo voglio mettere No No Perché C'ho creativo Non capito C'ho C'ho Ottavo Un Pudin Ja E' buona E' buona Aspettiamo la scia via Tanto voglio 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 Borgo Comunque se volete un pompa andate a vande Se ne stanno sentando Un pompa Sì Che anche posso usare Quando c'è? Un capisano morto Sono stupido Ma non è possibile Pallo Oddio Perchè non mi distegriati Mi va Non mi ha lasciato Mi ha lasciato Non mi ha lasciato Sento questo Ho più di un'ora Mi ha lasciato Mi ha lasciato Mi ha lasciato Pabu, vi tagliate. Noi andiamo Andiamo nel mare Andiamo nel mare Andiamo nel mare Andiamo nel mare Quella che cosa è? Carrammato Vola piccola Vola 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 Col cavolo che vado al mare Vado in questo posto Non era L'hanno cambiata Io qua ci andavo sempre Non so perché Però non mi piaceva Io hanno cambiato tutto però Io voglio il baschetto bisunto Io ci sono rimasto male quando l'hanno levato Il baschetto bisunto è sempre stato nei cuori di tutti quanti Ma avete perché i nabbi dicono Oh no Tutti i nabbi Perché tutti i pro ci vanno Oh no Maronna mi Si deve essere un po' accadato Ma imparatevi a giocare adesso E che dovete rompere le parole Ehi Se ci manca io qua Se ci manca questo Ehi Caram Non c'è niente Ma speriamo che in quella casa c'è uno score C'è un pompa blu del nonno No no non volevo ballare Eh ma si mette accantare il pesce Noi pushamo Anche senza pompa senza materiali soprattutto spacco tutto stairo oh io capiria però dove stanno aiuto a cantare lo so è una trappola però la voglio cogliere ma non c'è spuglia sono ancora dei spugli esistono veramente no immagino immagino oh io i me leo i me leo i te go hey hey you push me look Allerio! 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 Boucho! 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 Allerio! 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 Boucho! Eh! Non te l'aspettavi eh! Piccolo bambino! Non te l'aspettavi! Non te l'aspettavi! Non te l'aspettavi eh! Volevi essere... volevi stare contro di me! Stupido Stupido Ammazzo quello che è più forte di te E' normale che ammazzo te Cioè Logico Che mi sembra logico a me Ok abbiamo 13 punti Buono E' un po' C'è una messa qualcuno alle fabbriche C'è qualcuno alle fabbriche Ecco ha spaccato Non so se si è visto Eccolo Sto cercando di nascondere Così faccio impazzata Ecco ha spaccato di nascondere Oh no Pensavo che stavo qua Oppure sta Oh stava qua sopra Di ma dove mi c'è creato addosso Sparato da solo Dov'è? Mi cazzo male Oh vai un cichino Non so dai dove mi ha sparato Ma No con la palla Guardalo 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 Ah Cosa? No No Sono troppo forte Quindi Andando Ti devi inchinare Ti devi inchinare il mio rispetto perché ti devo insegnare alcune cose che contro di me non competi. Cioè devi essere di film bravi, ma è un manianghe. Eccola la palla. La palla rotonda. Qua ha lasciato il pallone. Però lui dov'è? Vero, non so qua. Vero, vero, vero. Non so qua. Non so. No, ok altrimenti. Ma infatti perché ha lasciato la palla qua? Ma io, c'è andato là dentro. No, non credo. Però c'è un cambert da madonna. C'è un massimo di ferro. Cioè ci sono tutti quelli che hanno un ferro. Bene. 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 Ho visto uno. Si va a lottare, va a lottare, va a lottare. Si, si. Se viene verso di me. Se viene verso di me cosa gli faccio? Se viene verso di me. Se viene verso di me. Se viene verso di me. Non so qua. Se viene verso di me. Se viene verso di me. E' per amore. Se viene verso di me. cosa spero che questo video vi è piaciuto se vi è piaciuto a scendere se non mi siete iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo alla prossima bella